E' possibile andare nell'isola che non c'è? Giorgia, ma non lo vedi che lo dice anche la parola? L'isola che non c'è, che cosa vuol dire? Che non c'è! Brillantini? Ma che ce l'ha messo tutti questi brillantini? Cioè... Ma tu chi sei? Io sono Peter! Ma è bellissimo! Babbo? 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 Giorgia, ancora sveglia sei? È tardi, dimmi, che c'è? Ma, secondo te, è possibile andare nell'isola che non c'è? Giorgia, ma non lo vedi che lo dice anche la parola? L'isola che non c'è, che cosa vuol dire che non c'è? Ma, Babbo, l'ho letto ora, esiste! Giorgia, l'ho letto ora, esiste! E non esiste, Giorgia, l'hanno fatto per far contenti i bambini! E' una leggenda, una storia! E allora, Babbo, perché ci hanno fatto un sacco di film? E tanti libri? Secondo me, Babbo, è vero! Giorgia, mi hai stufato! Non è vero! Te lo sto dicendo io, che sono un adulto! Comunque, in ogni caso, Giorgia, è tardi? A letto, dai! Poi se ne parla domani! Uffa, no, io non voglio andare a letto, voglio andare nell'isola che non c'è! Giorgia, a letto, che domani c'è la scuola! Puoi andare a letto, per favore? Mmm, cattivo! Ma tutte queste fantasie che vi vengono, ma che ne so io! Uffa! Comunque, ragazzi, secondo me, è vero! Mmm, ragazzi, voi ci credete da Peter Pan? Bene, se sì, lasciate tantissimi like! Se no, iscrivetevi al canale! Vabbè, comunque... Buona notte a tutti quanti! Ciao! Buona notte a tutti! Brr, che è freddo! Ma che ti fa la finestra aperta? Ah, mamma mia, che è freddo! Ma chi l'ha aperta questa finestra? Babbo, perché mi hai aperto la finestra? Fa freddo! Giorgia, non te l'ho aperta io la finestra! Sarà stata la mamma! Ah, molto meglio! Freddo! Brillantini! Ma che ce l'ha messo tutti questi brillantini? Cioè... Boh! Tutto il cuscino sparco! Ma ora la mamma si arrabbia, cioè... Giorgetta, buongiorno amore! Ma sei ancora in pigiama? Dai, sbrigati! Vestiti! Buongiorno! Comunque sì, ora mi vesto! Dai, Giorgetta, su, ma... Che cosa sono questi, Giorgia? Ma dai, Giorgia, guarda, ma ci vuole un sacco per pulirli! Quante volte ti ho detto di non truccarti la sera? Ma mamma, io non mi sono truccata! Sì, vabbè, sempre le solite scuse se... Uffa, sbrigati! Ma io non ho fatto nulla! Nessuno mi crede mai! Mi vado a cambiare, se no la mamma chi la sente! Ma, ragazzi, ho sentito un rumore che proveniva dalla camera mia! Però, in camera mia non c'era nessuno! Oh, mi ha sentito! Dove mi metto? Mi devo nascondere! Mi nascondo qui! Mi nascondo qui! Non va bene! Giorgia, tutto ok? Giorgia, ti sei fatta male? Cos'è successo? Sì, bambù, tutto a posto! In realtà no! Va bene, andiamo a controllare! Oh no, qui non ci sto! Sono troppo grande! Ah, c'è la sala per terra! Furto, c'è un ladro in camera mia! È meglio chiamare la polizia! Oh no, no! No! Non chiamare nessuno, per favore! Ah, ma tu chi sei? Io sono Peter! Peter? Ma che è Peter? Io non conosco nessuno con questo nome! Come Peter chi? Peter Pan! Peter Pan! È vero! Sei Peter Pan! Quindi qui vuol dire che è passato anche i frilli! Eh sì! È vero! Questa notte c'era anche lei! Ma scusate, ma Giorgia non doveva scendere! Che berデ Ổlo? Andiamo a controllare che è meglio! Sbaglio! Oh, Giorgia sta checchierando con qualcuno in camera! E chi c'è in camera? Ma chi è? Andiamo a controllare! Che succede? Che succede? Giorgia che ci fai lì imparata così in piedi e poi soprattutto con chi stavi chiacchierando con nessuno babbo eppure Giorgia mi sembra di aver sentito la voce di un altro chi c'è in camera no babbo ero io con le mie barbie ciao barbie ciao Francesco ma dai Giorgia non è il momento di giocare con le barbie ti ancora ti devi lavare la faccia i denti dovresti fare anche colazione ancora neanche hai fatto la colazione ti muovi per piacere dai Peter perché il babbo non ti ha visto di sicuro perché babbo è così cresciuto che non crede più nell'isola che non c'è e quindi neanche a Peter Pan ma non crede all'isola che non c'è non crede a Peter Pan ma tu sei qui a Natale non credeva neanche a babbo Natale e nemmeno agli Elfi che brutta persona comunque Peter Pan adesso è meglio se andiamo via da qui perché tra poco arriva la mamma a rifarmi il letto e non so se la mia mamma crede a Peter Pan quindi facciamo così Peter mi lascia un minuto che mi vado a cambiare e voi ragazzi da casa se credete a Peter Pan lasciate tantissimi like e continuate a seguirci per vedere come andrà a finire Peter vieni sono pronta andiamo e dove andiamo a Giorgia che spavento o vedo che si è cambiata brava si babbo vedi che sono cambiata ma ora vado a giocare il gioco bene? ok non ti fare male però eh no ma che meraviglia vedo è proprio un bambino come me ma che bel bambino ma ci penso io a te non ti preoccupare ma Peter te ti comporti come un bambino normale ma a guardarti sembri più vecchio di mi babbo Giorgia però così mi stai un po' offendendo ma perché sei così vecchio con la barba e il nasone? dai pisare non piangere non ti volevo offendere scusa brutta ombra è tutta colpa sua guarda come se la ride ma dov'è l'ombra non la vedo ma com'è possibile? vieni Giorgia che ti racconto devi sapere che tanti anni fa io e la mia ombra abbiamo litigato e si è staccata dal mio corpo e senza di lei non posso più rientrare nell'isola che non c'è quindi se rimango fuori dall'isola invecchio ed è da allora che la inseguo in tutte le case e non riesco mai a riacchiapparla mi dispiace Peter Peter ti posso chiedere una cosa? ma cosa tiene in quella borsetta? beh qui tengo la polvere di fata wow che bello è fantastico per favore me la fai vedere ma certo Giorgia guarda guarda come luccica è bellissima wow bello c'è da un sacco ragazzi mi è venuta una fame quasi quasi faccio uno spuntino bene vi maggio due punki della Giorgia ma non glielo dite però forse è meglio che finisco l'ultima email e poi mangio Giorgia ti devo confessare che adesso mi è venuto un po' di fame va bene andiamo su a prendere due punki guarda Peter il papà mi ha rubato due punki non ti preoccupare non ti preoccupare Giorgina ci penso io sta a guardare eppure mi sembra di aver sentito un rumore sarà una mia impressione mamma mia quanto è lunga questa email avevo una fame ok mamma mia dai sto quasi per finire dove mangio i miei buonissimi ragazzi sono sicuro che avevo appoggiato due punki ovvero il punki oppure me lo sono immaginato perché c'ho troppa fame però se non ci sono vuol dire che non l'ho presa ok qui è strano vabbè prenderci due chissà che voglio fare al babbo quando vedrà che i punki non ci sono più Proprio buoni quel tipo un cake Avevi ragione Ma scusami Giorgia Ti posso chiedere una cortesia Dimmi Peter Io come tu pensai Non ho più la casa Non ho l'isola che non c'è E non so dove andare a dormire Posso dormire qua Fammi pensare In camera mia di sicuro non puoi dormire Ho un'idea Aspetta qui fermo Arrivo subito Eccola Ti do la tenda dal campeggio Così dormi Ma io non so montarla Quindi montate Già aiuto E' pesante Vero Una vera bella idea Tadà Che l'ho fatta Ok Peter Montati la roba Bravo Sei stato bravo Ti sei montato tutto Peter Io torno in camera mia Mi raccomando Te non fatti sentire dal babbo Ti so come andrà a finire la prossima volta Vabbè ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate moltissimi like Iscrivetevi al canale Ma soprattutto attivate la campanella degli aggiornamenti E io Peter Pan Il babbo su E anche la mamma Vi salutiamo con un grande Wow Zitto Non ti fatti sentire dal babbo Va bene Grazie Giorgia Buonanotte Ciao Buonanotte Ciao Buonanotte Buonanotte Chissà come mai Dopo chiederò a Giorgia Ma Forse è questa la scatola Si Aia Che cosa mi ha perso No mi schifo un topo Mi fa schifo il dormi Ehi ma che fai dormi Mi sento strana No Giorgia Ma qui c'è una mano gonfissima Tutta rossa Ragazzi Giorgia è in macchina E stiamo andando di corsa al pronto soccorso Perché ha la febbre Ok Giorgia siamo arrivati eh Sì Dai Ok Abbiamo detto che ci vediamo dopo Perfetto Dai Alle 16 Ci vediamo al suo posto Va bene Dai Ciao Ciao Oh Hanno suonato Che Che sarà la scuola Oh Giorgina Un abbraccio Come è andata a scuola Bene Vado a giocare Va bene Aspetta Entri così Ma hai subito a giocare Innanzitutto Si dice ciao Hai detto ciao Ok però Giorgia Prima di andare a giocare Bisogna fare i compiti Perché poi dopo Tu giochi Ti stanchi E non vuoi fare i compiti Ok Giorgia Bene Dai veloce Ok però Prima il dolore E poi il piacere Sono noiosi i compiti Tra l'altro non so U che sono Sulla O Non sparate Sulla U Finalmente ho finito di fare i compiti Vado a giocare Sì Finalmente posso andare a giocare Sì Finalmente ho finito i compiti Qui non c'è Qui non c'è Me l'avranno messo qui da qualche parte No non c'è È possibile Io Ci avevo giocato Due giorni fa E non c'è più Papo Divi Giorgia Che c'è ancora È possibile Non trovo il cocco dentista Se vogliamo giocare Non c'è da nessuna parte Non c'è da nessuna parte Sarai in camera C'è una confusione in quella camera Hai controllato bene Certo che sì Papo Ha controllato tutte le parti In ogni angolino Allora L'unica che lo può sapere È la mamma Perché è la mamma Che ti mette a posto la camera Chiamiamola Vediamo cosa dice Va bene Pronto Ciao Cizia Ciao Come va Bene bene C'è Giorgia che è un po' arrabbiata Perché è arrabbiata Perché vuole giocare No non ho comando niente Vuole giocare con il cocco dentista E dice che non lo trova L'hai nascosto te Perché io non lo so dove Non lo so Il cocco dentista Ma avete guardato bene dappertutto? Giorgia dice che ha controllato dappertutto Sai dov'è? Eh dov'è? L'ho portato io in garage Perché stava lì A prendere posto da tante Che non ci giocava E quindi è giù E giù in garage Nessuna scatola Va bene Vai Ciao grazie Ciao 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 Allora papà ci vado io A prenderlo in garage Non ti preoccupare No 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 Giorgia Fermati per carità In garage tu non ci scendi da sola Perché c'è tanta roba a giro E potresti farti male E potresti farti male Quindi lascia perdere E' giù in garage Devo trovare un modo Per scendere in garage Senza farmi vedere dal babbo Come potrei fare? Ok Devo andare in bagno Oddio ragazzi devo fare velocissima perché devo tornare su prima che il babbo esca dal bagno Questa parte non mi piace tanto perché guardate ci sono un sacco di ragni a tele Ragni 360.000 ragni Oh Aiuto Ho paura Guardate qua Quante ragni a tele Ma qui fa paurissima Speriamo di non farmi male come ha detto il babbo Guardate qua Quante cose ci sono a giro Qua c'è la casetta Forse è questa la scatola Questa qui Sì Aia Aia che male Ma che mi ha morso No c'ho adduffizi Che cosa farà Aia che male Aia mi fa malissimo Ma che cosa mi ha morso No mi schifo un dopo Mi fa schifo un dopo Oddio ragazzi Mi ha morso un dopo Avete visto che schifo Poi mi sono spaventata tantissimo Però ora quando mi entra in casa non mi devo far scoprire dal babbo Che mi ha morso il dopo Perché se no scopro che sono stati in garage senza permesso Ah mi fa male Ah mi fa male Ah mi fa male guardate ragazzi è diventato anche rosso Ok Questo è il disinfettante Mi disinfetto subito perché mi fa malissimo Ok vai Oddio ragazzi Qualciasi gusto è rosso Poi ci metto un po' di acqua fresca Almeno vediamo se poi non mi fa male Mi fa malissimo Dai sì Poi non mi fa tanto male Un pochino sì ma è un pochino sì e un pochino no Ora vado a giocare col cocco dentista Sì E anche non è questo Ok speriamo che non mi morde Però ragazzi io mi sento strana Sono stanca Mi fa male la testa Sono stanchissima Non ce la faccio più a giocare Lo sapete che faccio? Mi faccio due minuti di sonno Almeno mi riprendo un pochino Ok Ultima e-mail Inviata Ok Che ne sono? Ma è ora di fare merenda Giorgia Tu è ora di fare merenda Gina Ma che sta combinando? Andiamo a vedere Giorgia Ehi Giorgina Ehi Ma che fai dormi? Giorgia è ora di merenda Ragazzi vi giuro Non ho mai dormito Come dice Giorgia Giorgina Dai Sveglia Su che si fa la merenda Sveglia Ehi Ma ti senti bene? No babbo Ma infatti c'è un colorito strano in faccia Ma mi senti? Giorgia ma c'hai la febbre Mi sento strana Giorgia che cosa hai combinato mentre ero di là? Niente Sei sicura? Niente Fammi vedere quella mano No Fammi vedere quella mano No Giorgia Ma qui c'è la mano gonfissima Tutta rossa Ma poi che sono i puntini? Che cosa sono? Giorgia che cosa hai fatto? Niente Giorgia che cosa hai fatto? Ma quello lì? Se non sbaglio è il cocco dentista Non mi dire che sei sceso in garage Mamma mia babbo Sono sceso in garage Mentre tu eri in bagno E quando stavo prendendo il cocco dentista Nella scatola Mi ha morto un topo Come ti ha mosso un topo? Giorgia Fammi vedere No Giorgia Guarda qui Guarda ma non è una cosa da prendere così aria e leggera Giorgia I topi portano infezione Stanno in mezzo alla campagna Mangiano di tutto Giorgia qui ti ha fatto sicuramente infezione Guarda qui Mamma mia Giorgia Ma io non so cosa fare Ma ti senti bene? No 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 Facciamo così Giorgia Guarda Mannaggia a me Giorgia ti avevo detto di non scendere in garage Te l'avevo anche detto Aspetta qui Chiavo la mamma E vediamo cosa c'è da fare Su rispondi Pronto Ehi Cinzia Non vuoi fare la spesa in pace in questa casa C'è un problema Ti ricordi che Giorgia voleva andare in garage Per prendere il cocco dentista? Eh che è successo? Io avevo consigliato di non andare Perché si poteva fare male E' scesa mentre io eri in bagno Quindi di nascosto E mentre prendeva il cocco dentista dentro la scatola Ha detto che l'ha morso E' un topo E infatti c'ha la mano tutta rossa Oddio un topo Eh un topo Infatti c'ha due puntini piccoli Però c'ha la mano tutta rossa e gonfia Oh e poi come sta? C'ha su Si è disinfettata un po' Non lo so Non gliel'ho chiesto Però c'ha le occhiaie C'ha sicuramente la febbre Perché la sento caldissima E la faccia tutta rossa No 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 Salvo allora Prendila e portala subito all'ospedale Al pronto soccorso Subito Ma sei sicura? Giungo lì più tardi Sì 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 Ma è meglio chiamare il dottore Che dici? No 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 Portala subito giù Perché è pericolosissimo Può fare infezioni E no 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 Subito Istantaneamente Vai vai Ci vediamo lì Vai ciao ciao Ma io non capisco Gliel'avevo anche detto Di non scendere in garage Mannaggia Giorgia dai Bisogna andare all'ospedale adesso Eh sì Bisogna andare all'ospedale Oh ha detto la mamma Bisogna andare all'ospedale Perché fa infezione Il morso di un topo Andiamo per piacere Dai Ma non mi piace l'ospedale Eh te la sei cercata Giorgia Giorgia te la sei cercata Ti avevo detto di non scendere giù Ragazzi Giorgia è in macchina E stiamo andando di corsa Al pronto soccorso Perché ha la febbre E' tutta rossa E ha la mano Molto molto gonfia E quindi ora Sperando che vada tutto bene Che non se la trattengano Anche questa notte lì Ma non ci voglio andare L'ospedale è brutto Giorgia Bisogna Fagli vedere Ai dottori la tua mano Perché se fa infezione E non ci andiamo Rischi che ti arriva Anche a tagliare la mano No io non voglio Tagliare la mia mano E allora guarda Cinque minuti E siamo arrivati Va bene? Allora Stai bene? No papà Allora pronto soccorso Emergency a sinistra Papà ma a me non mi piace L'ospedale è bruttissimo Ok Giorgia siamo arrivati Allora se parcheggia si entra Allora ragazzi abbiamo parcheggiato Però adesso dobbiamo Smettere di riprendere Perché siamo sicuri Che non ci fanno riprendere Dentro il pronto soccorso Quindi seguidici Per sapere come Andrà a finire questa situazione E se Giorgia Potrà ancora usare la mano Perché ce l'ha veramente gonfia Guardatela Non riesco a piegarla più di così Perché ce l'ha molto gonfia Ricordatevi sempre ragazzi Di lasciare un like Attivare la campanella degli aggiornamenti E soprattutto Iscrivetevi al nostro canale Giorgia ce la fa a dire wow? Più o meno Ok Dillo come ti viene E noi come sempre Vi salutiamo con un grande Wow Giorgia sei pronta? Dai Dai su Su Ti potresti portare dal parrucchiere Che la mamma non può? No Giorgia Io dal parrucchiere Non ti ci porto Ehi Chi fa questo qui? Giorgia 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 aprimi Per favore Ok amore Vieni ci accomodiamo Ok Perfetto ragazzi Capelli fatti Giorgia Ci sono scioccherosa E poi è impossibile Pettinarli Perché sono tutti annodati Ah Aia Uffa Con i capelli lisci E nel scioccherosa Stavo molto meglio Se siete d'accordo con me Lasciateci tanti Like E iscrivetevi al canale E iscrivetevi al canale Ora chiedo alla mamma Se mi porto dalla parrucchiera Mamma 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 Amore Mamma Amore Che c'è? Che succede? Mi porti dalla parrucchiera Per favore E perché ci voglio andare? Perché C'ho capelli così crespi E poi non c'ho più La misioccherosa Oddio amore Effettivamente C'hai un po' ragione Sono proprio ridotti Un po' Un po' male Un po' trasandati Sicuramente Hai bisogno della parrucchiera Però cucciola Non oggi Non ti ci posso portare adesso Perché devo andare via Guarda Stavo uscendo No Dai mamma Mi ci porti Amore Guarda Prova a sentire babbo Eh Va bene Mamma babbo Vai Ciao Mamma 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 Dimmi Giorgia Che c'è? Mi potresti portare Dal parrucchiere Che la mamma non può? No Giorgia Io dal parrucchiere Non ti ci porto Prima perché Devo andare fuori A tagliare l'erba Numero due Non te lo meriti Perché ti ricordi Che mi hai fatto Arrestare L'altra volta È passata ancora una settimana Ma me lo ricordo bene ancora Che mi hai fatto arrestare Per un giocattolo Da 10 euro Quindi io non ti ci porto Uffa babbo Non voglio rimanere Con questi capelli Io non ti ci porto Perché non te lo meriti Io ancora sono arrabbiato con te Quindi Per me Puoi stare a casa Uffa Non è giusto Ma io sono ancora Arrabbiato con lei Anzi Fai da tagliare l'erba Uffa non è giusto Il babbo è sempre esagerato E dice sempre di no Ma scusa Almeno mi ci può portare Dalla parrucchiera C'è Ne ho proprio bisogno Guardate come sto C'ho i capelli Crespissimi Non ci possono manco pettinare Mica posso andare a scuola Così C'è Dai Devo trovare un modo Per andare Dalla parrucchiera E se il babbo Non mi ci porta Ci andrò da sola Ehm Però Come faccio Con il babbo in casa Ho un'idea Dimmi Giorgia Qua Lo sai Non ti ci porta La parrucchiera Già te l'ho detto Dimmi Eh non mi interessa La parrucchiera Ok Prima ero giù Sì Io ho sentito Un grande scroscio d'acqua Giù Giù dove? Lì giù Papà Nella lavanderia Vicino al garage In lavanderia O in garage Giorgia E' un po' importante Questo Eh non lo so Papà Vieni Ok Vai Fammi vedere Fammi vedere Mamma mamma Di sicuro Si è rotto un tubo dell'acqua Fammi vedere Fammi vedere Perché se no ci si allaga Qui Dov'è Mamma mamma Dimmi Dov'è Dov'è Giorgia No tipo Lo sentivo Che veniva l'acqua Ma sei sicura Giorgia Perché lì ci sono Tutte le tubazioni Della casa Dove va l'acqua Di tutti i rubinetti Eh Stai vai di qui Se non ti bagni tutta Ci penso io Ma dov'è Dov'è quest'acqua Ehi Che faccio qui Giorgia Apri Per favore Dai No apri Apri Ti faccio diventare Il collosso No no Dai apri Non voglio rimanere qui Questo scantinato brutto E umido Apri Vuoi dire Tutto quello che fai Ma tanto Io non ti apro Giorgia Apri Guarda che ti metto in funzione Per un anno Apri No no Apri No No babbo Dai Apri No babbo Perfetto babbo Così non mi dice più di no Ciao babbo Io vado a fare Quello che mi fare Apri Ragazzi Questo è un posto Veramente bruttissimo Umido Pieno di acqua E Pieno di Di agni Ragni alla tele È una cosa veramente Schifosissima Guardate ragazzi Vi faccio vedere Questa è la zona Dove ci sono tutti i macchinari Di casa E fa freddo anche qui dentro E io sono anche a maniche corte Come faccio a uscire E poi qui c'è quella zona buia Ve la ricordate Guarda non si vede neanche in fondo E ora come faccio a rimanere qui E soprattutto come faccio a uscire Giorgia Apri Giorgia Apri Per favore Perfetto Il babbo l'ha sistemato Adesso Devo chiamare la parrucchiera E vediamo se c'è posto Pronto? Sono Giorgia Sì Vorrei venire lì a farmi un scioccherosa Ci avete posto? Ah sì? Subito? Perfetto Vengo subito Ciao Perfetto Posso andare subito Dalla parrucchiera Ci hanno un posto libero Per fortuna Oh cavolo Ma come faccio a pagare? Non c'ho soldi Oddio Come faccio? Ah è vero Di sicuro il babbo Ci avrà qualche soldino Con i caffetti Qua? No? Non ci sono? Ah eccoli Perfetto 100 euro Andranno bene Ragazzi però Mi raccomando Non scrivete niente nei commenti Che sto per andare dalla parrucchiera Se no sono guai Se non sbaglio dovrebbe essere Quassù Ok vado Ciao Giorgia Il babbo dov'è? Il babbo è giù in macchina che mi sta aspettando Ok amore Vieni ci accomodiamo Ok Allora cosa facciamo? Vorrei farmi una spuntatina e le ciocche rosa Ok Poco in poco Ragazzi mi hanno messo il colore E sono curiosa di vedere come verranno Però spero che si muovano perché Devo tornare a casa prima della mamma Se non sbaglio Laggiù in fondo c'era un'uscita E quindi riproverei ad andarci Però è molto molto buio Come faccio? Ragazzi però mi fa paura questa cosa Perché è tutto buio Possono passare topi i ragni Ho un'idea C'ho il cellulare Mi posso fare luce con il cellulare Vediamo Ah così funziona meglio Andiamo Vediamo Ok Giorgia mi senti? Mi senti? Mi senti? Di sicuro in cavolo che sta giocando Era solo un tubo Ok Andiamo Ok siamo in fondo Ok mi ricordo bene Bisogna girare a destra Vediamo Se anche qui c'è qualcosa Giuro che gliela faccio pagare A quella feste Di Giorgia Ma qui Non c'è nulla ragazzi Ma io mi ricordo Che c'erano uscite Invece non c'è più nulla Meglio che ritorno subito indietro Che c'erano uscite Perfetto ragazzi Capelli fatti Se vi piacciono Lasciate un bel pollicione E iscrivetevi al canale Adesso però devo fare veloce Perché devo arrivare Prima della mamma Devo trovare Una soluzione Per uscire Da questo tugurio Ma perché non ci ho pensato prima? C'ho il cellulare Posso chiamare La mamma cizia Vediamo Ok mamma cizia Ecco Ecco Non prende Immaginavo Il cellulare non prende In questo bunker E ora come faccio A stare qui 24 ore? Perché di sicuro Mi aprirà stasera Mamma cizia Mamma Mamma Meno male Sono arrivata Prima della mamma Ora lo sa che vi dico Vado giù A primo babbo Facciamo pace Giorgia C'è la mamma Adesso come faccio Con il babbo Oddio Ciao Bucciola Ciao mamma Ma che bella che sei Allora il babbo Ti ha portato Dal parrucchiere Ehm Sì Senti ma Dov'è il babbo? Mi sa che Giù in garage A pulire la macchina Ha detto Ah ok Allora vado a cucinare Giorgia Cizia Mi sentite? Sono qui E' allo scantinato Mi sentite? Non mi sente nessuno Mi fa anche freddo Ma è passata un'ora Ma perché salvo non sale? Giorgia Hai visto babbo? No mamma Non l'ho visto Eppure è strano E' quasi l'ora di cena Ora scendo a vedere cosa fa Perché Salvo 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 Ragazzi ma C'era anche la luce spenta Salvo dove sei? Ma qui non c'è Salvo E il garage è tutto buio Ragazzi E la macchina è qua Ma dov'è? Salvo Ma non c'è da nessuna parte Giorgia Giorgia Eh sì mamma L'hai trovato? Giorgia No non l'ho trovato Ma te dove l'hai visto l'ultima volta? Io l'ultima volta l'avevo visto Mi sembra qua Qua? Ma avevi detto che era giù Ma sei sicura? Sì mamma Io non lo so Però sono molto preoccupata Giorgia Perché è tardissimo E' l'ora di cena E il babbo ancora Non si trova Non è da lui questo comportamento Ragazzi sono in ansia Chiamo i carabinieri Non c'è altra soluzione Eh no 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 Cosa Giorgia? Eh no mamma E' qua giro Giorgia Ma sei sicura? Prima mi hai detto che era giù Ora che in giro Non è che mi stai nascondendo qualcosa? Eh no Giorgia Dimmi la verità per favore Giorgia dov'è il babbo? Non è che c'entri qualcosa Sì? Eh Giorgia dimmi la verità Oh bene Se lo dico Ho chiuso il babbo Nello sgantinato Cosa? Cosa hai fatto? Eh E non mi dire che è da oggi Che è lì Eh sì È da oggi No senti Giorgia Io non voglio sapere le motivazioni Però adesso lo vado a liberare E dopo mi spieghi Ok? Sì Marco Mi sa che questa volta L'ho fatta grossa Salvo Salvo No ma guardate anche la valigia Giorgia Aspetta che ti apro Giorgia aiutami Forza Salvo Meno male Come stai? Stanco Stanco È pieno Pieno di freddo Sono infreddolito Ma ci credo Sono sporco Sudato Giorgia Giorgia Non ti voglio vedere Con te faremo i conti dopo Ora voglio solo Andarmi a farmi la doccia Perché mi sento sporco E tutto sudato Togli Giorgia Basta Basta Mambo dai Scusa Non l'ho fatta Basta Meglio scusami Non ti voglio sentire Non ti voglio vedere Mi dispiace Giorgia Ora Spiegami Perché l'hai fatto Mamma Io l'ho fatto Perché Te sei andata via Senza che mi volevi portare Dalla parrucchiera Poi come mi ha detto L'ho chiesto al babbo E nemmeno lui Mi ci voleva portare Perché era ancora Arrabbiato con me E quindi Io l'ho chiuso Nello scantinato E sono andata da sola Giorgia Ma ti rendi conto Che quello che hai fatto È una cosa bruttissima Che non si fa? Cioè io stavo anche Per chiamare i carabinieri E il povero babbo È stato tutto il giorno Nello scantinato E pensa Giorgia Che ci sono tanti bambini Che ti guardano E potrebbero fare Quello che fai te Io non lo so Guarda Azzardati un'altra volta E non so Quello che ti faccio Ora Lo sai che il babbo Non ti parlerà più Per un mese almeno Vero? Sì Ok Allora direi Di chiudere qui Questo video Va bene? Ma prima Vuoi dire qualcosa Ai nostri amici? Sì mamma Ragazzi mi raccomando Non fate Mai quello che ho fatto io Perché sono Degli scherzi Bruttissimi Ma soprattutto Non lo fate Mai ai vostri genitori Mi scrivete nei commenti Per favore Un aiuto Per fare pace Con il babbo Giorgia Chissà se farete mai pace Ragazzi Anche questo video È terminato Se vi è piaciuto Lasciateci tanti Like Attivate la campanella Degli aggiornamenti Per vedere se Salvo farà pace Con Giorgia Chissà Ma se ancora Non l'avete fatto Iscrivetevi al nostro Canale E noi Io arrabbiatissima E Giorgina Spero dispiaciuta Vi salutiamo Con un grande Wow Ora Fida in camera Fida in camera In punizione Faccio la valigia Ci metto tutte le cose Che mi servono E mi vado a trasferirle Dalla nonna Ci iniziamo Mi sa che qui in camera Non c'è Giorgia Ragazzi Da qui passava Buon Natale Quando stavo camminando Mi sono accolto Di non avere la valigia Oddio Me l'hanno dimenticata Nonna Ha aperto la porta Ha spalancato gli occhi E me l'ha richiuta In faccia Sono scioccolata Che furba Giorgia 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 A depazienza Stacca un attimo Scusa ma io dico Con tutto lo spazio C'è in casa Ma vai nel salotto Vai in camera tua A guardare i tablet Ma devi stare proprio qua Babà Ma io voglio Un po' di compagnia Ho capito Ma allora Mettiti le cuffie Perché io sto lavorando Non posso sentire La tua risata Ogni 3-2 Sono scarica Giorgia Non mi interessa Allora O spegni il coso Oppure vai in camera tua A guardare i tablet Perché io devo lavorare Oh a me non mi piace Sare da sola Meno male Ciao Salvo Sono a casa Ciao Senti La Giorgina dov'è? Ah Giorgia È là in camera Arrabbiata Perché era qui Che stava ascoltando Il tablet Alla altra voce E rideva 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 Mi dava fastidio L'ho mandata in camera Allora Un minuto Vado a vedere Che fa Vai Giorgina Che c'è? Amore Ma che cos'è tutta questa confusione? Mamma Ma sono un due cose Dai Un due cose Giorgia Prima di fare Tutti i passatempi Che ti vengono in mente Bisogna Di mettere a posto Non si può lasciare la stanza In questo modo Dai Mamma Mi riesco di guardare questo video Che manca poco E poi ci stiamo No Giorgia Non funziona così Prima il dovere E poi il piacere E questo Te lo prendo No 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 La sua piacere è mia Mi fanno sempre sistemare Non posso mai Guardare il tablet Il cellulare Mi devo sempre mettere le cuffie Ma le cuffie sono scariche Non posso ridere Ma scusami Non posso fare niente In questa casa Non ci fa proprio niente Ci devo sistemare E basta Lo sapete che faccio? Io ho un'idea Faccio la valigia Ci metto tutte le cose Che mi servono E mi vado a trasferirle Dalla nonna Perché lì sì Che non posso fare Tutte le cose Che mi pare Mangiarmi la nutella Guardare il tablet Ora faccio benissimo La valigia Che c'è papo? Sì Giorgia che stai facendo? Stai stai mandando la camera Come ha detto la mamma Vuoi venire con noi A portare i cani fuori Per fargli fare la pipì? No Non c'ho voglia Oh Va bene Ti stai mandando la camera E fai la brava Va bene Per un pelo Ok Questo qui è il momento giusto Per andare dalla nonna Vado 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 Aiuto È pesantissima ragazzi Ragazzi è pesantissima Era meglio che i pattini Almeno li lasciavo a casa Andiamo Lucio Bravo Ok Georgina Siamo arrivati Salvo Non sta rispondendo Sarà in camera Perché prima Tu l'hai riproverata Anche io l'ho riproverata E quindi secondo me È in camera Arrabbiata Però comunque facciamo così Io vado a controllare in camera Magari tu controlla E che non sia nascosta qui Perché è probabile Che essendo che siamo andati fuori Ci sta facendo uno scherzo Ok Va bene Guarda dappertutto Regina Lucio è spenta Lo so che ci stai facendo uno scherzo Tu Giorgia esci Dove ti sarai nascosta Dentro l'armadio Tanto lo so che sei sempre lì Vediamo Vediamo E No Non c'è Sotto Tutto le coperte No Cinzia mi sa che qui in camera Non c'è Giorgia Salvo Giorgia non c'è in cucina Né nello sgamuzzino Né in salotto dietro al divano E neanche in bagno Non mi dire che scappata di nuovo Mentre eravamo fuori Lo sapevo che non doveva essere Lasciata da sola in camera E ora che si fa? Che si fa? Non lo so Chiamiamo i carabinieri I carabinieri Dai forse Magari era arrabbiata Uscita Andata da qualche amichetta sua Di scuola Proviamo a fare qualche telefonato Vai allora Chiamo io vai Pronto? Sì ciao Sono il papà di Giorgia Senti E un attimo lo chiede Ma per caso Giorgia è lì? No Ok Vai grazie Non c'è Aspetta Chiamo la mamma di Emma Vediamo Ok Sì ciao 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 Sì tu può Guarda la cosa veloce Ma per caso Hai l'uso a te A trovare la tua bambina? No Ok Va bene Sì semmai io già ho chiamato quattro amiche Ma Dice che non c'è Che devo fare? Aspetta provo qualche un'altra Vediamo Ok Vai Giorgia ora fila Subito in camera Perché ci ha fatto aggrabbiare E tu vedi in camera E dicevi che è punizione d'ardi Colli Che ci fai ancora lì? Non sei Ragazzi Mi sa che oggi L'ho combinato proprio grossa Ora vi racconto Cosa è successo Quando sono andata via di casa Mettetevi copoli Mangiate un po' di popcorn O patatine Se ce l'avete E perché Mi sembrava facile Andare dalla nonna Non è solo che ho trovato un sacco di difficoltà Sono uscita di casa Ma quando sono arrivata alla fermata di Pullman E ho controllato l'orario Mi sono accorta che era domenica Dopo averci pensato un po' a cosa fare Ho deciso di andare a piedi Posso andarci a piedi? Visto che con la macchina col babbo Ci vuole cinque minuti Anche a piedi ci metterò cinque minuti Mi metto in cammino Ragazzi da qui passa Babbo Natale Perché il cartello triangolo A triangolo con l'arena Vuol dire che da qui ci passa Babbo Natale Mentre stavo camminando Ho visto dei bei fiorellini E ho deciso di raccoglierli per una nonna Ragazzi guardate che bei fiorellini che ci sono lì Quasi quasi ne raccoglio un po' Per portarli a una nonna Almeno la faccio felice Secondo me sarò molto felice di questo regalo Quando stavo camminando Mi sono accolto di non avere la valigia Oddio me l'hanno dimenticata Spero di ritrovarla Nooo Non ci credo Me l'hanno rubata Lo sapevo L'arrivo la scelta qui Uffa Va bene Comprerò un'altra A un certo punto Mentre stavo camminando Mi sono resa conto Che non ero una passeggiata A andare dalla nonna Perché quando ci andavo col babbo Si andava con la macchina Semplicissimo Ma invece c'avevo il fiatone Che mi facevano malissimi i piedi Dopo 360.000 ore di cammino Ero quasi arrivata E' solo che per andare a casa della nonna Devo fare un'altra salita Quindi ho fatto un grande sospiro E sono andata su Arrivata alla porta Ho bussato forte e fortissimo La nonna ha aperto la porta Ha spalancato gli occhi E me l'ha richiusa in faccia Allora io ho arrivato Sotto forte La nonna mi ha riaperta Ha agitato agitatissima E mi ha fatto entrare E mi ha fatto sedere sul divano A questo punto la nonna Tutta agitata Mi ha chiesto Se mamma e babbo Sapevano che ero lì da lei E io spaventata Mi ha detto di no Perché ero scappata di casa Perché mamma e babbo Mi sgridavano sempre Quindi lo sapete cosa ha fatto la nonna Mi ha sgridata Poi ha preso il cellulare E ha deciso di chiamare mamma e babbo Da solo che io Tutta spaventata Le facevo No no Non la chiamare mamma e babbo Perché poi si arrabbiano E quel nonna non mi ascoltava Però ne ha chiamati lo stesso Immaginavo che non la prendessero così bene Guardate cosa è successo Allora chiamare quasi a tutte le mamme Ma di Giorgia non c'è l'ombra Mi sa che devo chiamare La nonna Paola Ok Pronto? Sì Paola Dimmi Come? Cioè Giorgia è a casa tua? E com'è venuta a casa tua? Scusami Che non ci sono i pulmon a giro A piedi No Vabbè Allora facciamo così Facciamo così Paola Valla a stare lì Per piacere Che arrivo subito io e la Cinzia Che la veniamo a prendere Va bene Va bene Va bene Cinzia l'abbiamo trovata Sì? Dov'era? E mi ha chiamato la tua mamma E dice che per niente è a casa sua E è andata a farsi una passaggiata a piedi E è andata dalla tua mamma A piedi? Come ha fatto piccina? Ma è lontanissimo Non lo so però gli ho detto di farla stare sul divano Che la andiamo a prendere Andiamola a prendere Vai vai Sapete perché non l'hanno presa tanta bene? No ragazzi Oggi Giorgia l'ha fatta veramente grossa E scappata di nuovo di casa Ha preso la valigia Ma la cosa peggio E che oggi Puma non ci sono Quindi lei è andata dalla nonna A piedi Che non ci vogliono mica cinque minuti Non ha meno venti minuti a piedi E se qualcuno la rubava O se si faceva male Ma quella che cos'è? No Ragazzi Ma quella lì è la valigia di Giorgia? Pure la valigia ha perso Ma La metto in punizione di sicuro Vi giuro ragazzi Che questa volta non la passerà liscia Non la passerà liscia Dopo la telefonata della nonna Io tutta spaventata Ho cercato un nascondiglio Sono andata in cuscina Al piano di sopra Dietro il divano In camera Ma Alla fine mi sono arresta Perché mi avrebbero trovata subito Ragazzi Stavano arrivando Ed ero disperata E arresa Giorgia Ma con chi sta parlando? Stavo parlando con i miei amici Li sto spiegando Cosa è successo oggi No Giorgia Forse non ci siamo capiti Devi stare zitta E sul letto ferma Perché ci ha fatto bene uno spavento A me Alla mamma E soprattutto alla nonna Quindi ora stai ferma sul letto E dopo ci vediamo per la punizione Ok? Sì babbo Come avete visto ragazzi Giorgia oggi l'ha combinata veramente grossa E quindi chiedo a voi un aiuto Per trovare una punizione Perché non può continuare a comportarsi così Vai Anche oggi è in punizione Strano Non succede mai Ora però vi devo salutare Perché se il babbo mi sente parlare Si arrabbia Quindi se questo video vi è piaciuto Lasciateci tanti like Attivate la campanella degli aggiornamenti E se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al nostro canale E noi come E anzi E io Un po' triste Un po' arrabbiata Mi saluto con un grande Wow 1, 2, 3 Wow Noi siamo Salva e Giorgia Wow Di video è sempre una pioggia Con mamma ci inseguiamo Quante ne combiniamo Tra giochi e risalte Sai che ci divertiamo Tanto divertimento Ma che casino